Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo insieme come fare in modo molto economico uno slider motorizzato per la fotocamera, per fare delle belle riprese stabili come queste. Grazie per la visione! Per chi non lo sapesse uno slider è fatto da due tubi affiancati su cui scorre una specie di carrello su cui viene montata la fotocamera. Questo carrello può essere mosso dalle mani di chi lo utilizza o da un motore, e in entrambi i casi vengono delle riprese molto più fluide piuttosto che si fossero fatte a mano. Quello che vi ho spiegato io era uno slider classico, poi ce ne sono di tantissimi tipi, lunghi, corti. Una cosa che però accomuna tutti gli slider è il fatto che siano molto costosi. Oggi infatti vedremo come farne uno molto semplice con una spesa molto ridotta. Anche per questo progetto userò la stampante 3D, perché ovviamente tutti i pezzi devono essere molto precisi, quindi non c'è occasione migliore per usarla. Vi prometto comunque che nei prossimi video ricomincieremo ad utilizzare il legno. Questa volta i disegni in 3D li ho fatti io, e devo dire che a parte qualche errore sono venuti abbastanza bene. In descrizione troverete il link per scaricare i disegni, se volete anche voi fare uno slider come questo. Questi sono tutti i pezzi che ho stampato. Abbiamo i due lati dello slider, il carrello e la bobina, ma di quella ne parleremo dopo. Oltre alle parti stampate in 3D, useremo due tubi di alluminio lunghi ciascuno un metro e larghi 16 mm, e delle viti autofilettanti. Come vedete, i fori nei lati sono troppo piccoli, di qualche decimo di millimetro, quindi con della carta retrata li levigherò appena. Prima però di infilare i tubi di alluminio nei fori, montiamo sul carrello l'attacco per la fotocamera, perché è più agevole farlo adesso che poi quando il carrello sarà montato. L'attacco che ho scelto io è molto semplice, ha uno snodo per posizionare meglio la fotocamera, con sopra un filetto da un quarto di pollice che poi si avvita sotto alla fotocamera. Anche a questo vi lascio il link in descrizione. Ora iniziamo infilando i due tubi di alluminio nei fori di uno dei due lati. Adesso inseriamo il carrello sui tubi e poi inseriamo i tubi nei fori dell'altro lato. Ora che tutto è montato, avvitiamo i tubi di alluminio ai lati stampati in 3D utilizzando gli appositi fori. Prima di avvitare guardiamo sempre che tutto sia ben allineato. Grazie a tutti. Abbiamo finito di creare lo slider, è venuto abbastanza bene ed è molto solido. Ora quindi procediamo a montare il motore. Come motore userò questo motore da 15 giri al minuto che funziona a 12V. Visto che comunque sarebbe troppo veloce io l'alimenterò a 5V per ottenere una velocità ideale. Adesso quindi prendiamo il petto della bobina che starà fisso al motore e ci infiliamo un bullone. Per attaccare il bullone della bobina al perno del motore userò un morsetto mammut di grandi dimensioni a cui toglierò la parte di plastica. Non è sicuramente la soluzione più robusta che ci sia però in cambio costa molto poco. Ora che abbiamo preparato il motore lo attacchiamo con delle facette al supporto che c'è su uno dei due lati dello slider. Poi prendiamo un pezzo di corda e leghiamo un'estremità al carrello su cui puoi andare la fotocamera. E l'altra la leghiamo alla parte che si sfida della bobina. Ora però vi starete chiedendo perché ho fatto la bobina in due pezzi e il motivo è questo. Lo slider andrà solo in una direzione perché il motore è da un lato e quindi la fotocamera può essere tirata solo verso il motore perché non c'è una cinghia che la tira nell'altro senso. Quindi quando il carrello deve tornare alla posizione iniziale devo svolgere la bobina. Il problema è che il motore è lentissimo quindi farla svolgere al motore richiederebbe troppo tempo. Allora ho pensato a questa bobina che ha un pezzo attaccato al motore e uno mobile attaccato alla corda. In questo modo quando il motore deve tirare lo slider la bobina è fatta girare grazie a questo dentello. Mentre quando devo riportarlo alla posizione iniziale mi basta sfilare la bobina, svolgerla e rimetterla al suo posto. Ora proseguiamo saldando al motore il connettore che poi si collegherà al controller. Ho scelto un cavo jack che ho recuperato da qualche vecchio dispositivo elettronico. Al suo interno ha tre cavi quindi uno lo possiamo tagliare perché per alimentare il motore ce ne bastano due. Adesso abbiamo finito lo slider quindi non ci resta che assemblare il controller. Per montare tutti i componenti ho stampato in 3D una scatola con il coperchio. Poi ci serve una batteria a litio ricaricabile da 3,7 volt. Poi un circuito per ricaricare la batteria. Un modulo step up per portare 3,7 volt la batteria a 5 volt per far funzionare il motore. Poi ci serve un deviatore bipolare a levetta per cambiare la direzione del motore. Un interruttore per accendere e spegnere il circuito. Tra i led colorati e un cavo jack da collegare alla presa che abbiamo montato prima sul motore. In descrizione trovate tutti i link ai prodotti che utilizzo e lo schema elettrico. Iniziamo a fare il circuito saldando i cavi ai due pali della batteria e poi mettiamo del nastro isolante sulle due saldature. Poi prima di collegare la batteria al circuito di ricarica dissaldiamo i due led dalla schedina e colleghiamo i contatti dei cavi a cui poi collegheremo dei led che verranno messi sul pannello del controller. Procediamo saldando i cavi di uscita della scheda di ricarica al modulo step up e anche qui saldiamo al posto del led sulla schedina due cavi a cui si collega un led da mettere poi sul pannello frontale. Questa schedina ha come riuscita una porta usb ma visto che a me non serve salderà due cavi direttamente ai contatti sulla scheda. Ora incollo con della colla a caldo i circuiti e la batteria alla scatola del controller. Procedo montando i due interruttori sul pannello frontale del controller. Poi il cavo del positivo che va dall'uscita della batteria al modulo step up lo collego ad un interruttore per poter spegnere il modulo step up quando non mi serve ed evitare di consumare batteria. Collego poi i due cavi che escono dal modulo step up al deviatore bipolare a levetta che controllerà la direzione del motore. Ora prendiamo il cavo jack che poi si collegherà al connettore che c'è sullo slider. Anche questo ha tre cavi ma visto che a noi ne servono solo due tagliamo quello giallo come abbiamo fatto prima. Ora infiliamo le estremità del cavo nel foro che c'è sulla scatolina. Poi colleghiamo il positivo e il negativo del cavo jack insieme ad altri due cavi ai due contatti laterali del deviatore a levetta. Infine colleghiamo i due cavi che abbiamo collegato prima agli altri due contatti dell'interruttore invertendoli. Vi ricordo che se non capite qualcosa trovate lo schema elettrico di tutto ciò in descrizione. Abbiamo finito di fare tutte le saldature. Adesso non ci resta che infilare i led nei fori del pannello, fermare i cavi con della colla a caldo e chiudere il controller con delle viti, sperando di riuscire a far centrare tutti i cavi. Il controller Il controller è finito, ora carichiamo la batteria con la porta usb. Come vedete anche i led di stato della ricarica funzionano bene, mentre si carica rosso e quando è finito diventa blu. Adesso colleghiamo il cavo jack del controller alla presa che abbiamo montato sullo slider. Quindi accendiamo il controller e poi come vedete se sposto l'interruttore a levetta da un lato o dall'altro il motore andrà nelle due direzioni diverse, anche se per il motivo che vi ho spiegato prima lo slider può andare solo in una direzione. Direi che funziona benissimo, poi quando il carrello arriva alla fine della corsa dobbiamo sfilare la bobina, srotolarla, portare il carrello al lato opposto e rimettere la bobina sul motore. Ora mettiamo la fotocamera sullo slider e facciamo qualche bella ripresa. Grazie a tutti. Ora riprendiamo come soggetto questo bel leggo che stava su una mensola da anni e infatti è tutto impolverato. Ho fatto varie riprese da diverse angolazioni e le ho montate insieme. Che ne pensate? Vi ricordo comunque che alle riprese che vedrete non ho aggiunto alcuna stabilizzazione software. Adesso che abbiamo visto che tutto funziona correttamente vi parlo delle cose di questo slider che si potrebbero migliorare in futuro. La prima è che spesso bisogna tenere un dito sulla corda perché se no vibra e fa vibrare la fotocamera. La seconda è che il motore che ho messo io non è tanto potente, quindi credo che con fotocamera che pesano più di un chilo non ce la faccia. La terza cosa è la bobina che si può sfilare, che come concetto funziona abbastanza bene, ma la dovrò fare più lunga perché così se c'è sopra troppa corda si sfila da sola. Però diciamo che nonostante questi piccoli problemi sono soddisfatto. La struttura è comunque sufficientemente robusta, diciamo che non potrete sicuramente metterci una fotocamera molto pesante, però per la mia sembra funzionare tutto bene. Alla fine le riprese sono comunque molto più stabili di quanto pensassi e poi il fatto di farlo funzionare a batteria è comodissimo perché lo si può spostare senza avere altri cavi in giro per la stanza. Bene, anche questo video finisce qui, io vi ringrazio di averlo visto, se vi è piaciuto lasciate un like, se avete domande o idee da propormi scrivete pure un commento, mi raccomando iscrivetevi e se volete seguitemi anche su Instagram. Ciao e alla prossima! Ciao a tutti! Ciao a tutti!